Romina Carrisi è finita nella bufera per aver ricordato il nonno Tyron Power, o meglio, per il modo in cui lo ha fatto. La figlia di Albano e Romina ha pubblicato una foto, nel giorno dell'anniversario della morte del celebre attore americano, da molti ritenuta inopportuna. Nello scatto, infatti, la 32enne è scalza, con un fiore bianco in mano e seduta sulla tomba di Tyron, in un cimitero californiano. Molti follower hanno apprezzato, ma a molti altri è sembrata una mancanza di rispetto. Avrei evitato una foto imposa su una tomba come fosse un sofà, ha scritto qualcuno, e alla fine, in difesa della figlia, è intervenuta Romina in persona. Come siete cattivi, ha commentato. La Power ha poi provato a spiegare, la tomba di mio padre è una panchina, non ci si siede solo lei, ma anche molti estranei che lo hanno amato.